Prima di tutto un commento sulla serata che è più che positivo, è un'iniziativa meravigliosa che secondo me ha un valore aggiunto enorme, quello di cercare di portare l'attenzione degli operatori del settore sanitario ma non solo, un mondo che è quello che gira intorno al mondo digitale, diciamo così, spesso sconosciuto. Ci sono stati presenti dei progetti che secondo me hanno delle potenzialità veramente bellissime con un impegno da parte delle persone incredibile che in realtà è pura innovazione, per cui veramente complimenti e spero veramente che questa iniziativa possa andare avanti. La battuta rispondo molto volentieri perché in realtà il nostro settore fa esattamente il contrario, il nostro settore è uno di quelli che si sta impegnando maggiormente nella comunicazione diretta verso cittadini, pazienti, operatori eccetera, utilizzando proprio i canali digitali, per cui questa sfida è stata accolta da noi come associazione di settore ma dalla nostra azienda in primo luogo molto positivamente e sono convinto che l'anno prossimo avremo qualcosa da dire in più, per cui ci saremo ancora.